Diciamolo, la chitarra suonata col plettro ha rotto il... Ma andiamo a cercare un po' le basi scientifiche e filosofiche di questa mia affermazione. In questo video voglio farti vedere quanto in là puoi arrivare suonando la chitarra con le dita, fingerstyle, anziché con il plettro. È idea comune che con il plettro si possa suonare più velocemente, più potente e anche più cose. In realtà è il contrario, perché se impari la tecnica giusta, fingerstyle, quella completa, quindi un misto di tecnica classica, acustica, flamenca, latina e anche altre tecniche integrate, raggiungerai dei risultati che neanche ti immagini, sia per quanto riguarda la velocità, la potenza, l'espressione, l'interpretazione e la quantità di musica che puoi suonare. Brevemente abbiamo il 90% dei generi musicali di chitarra del mondo che sono fatti con le dita e non con il plettro. La maggior parte di questi non può proprio essere fatta col plettro, perché bisogna suonare spesso più linee melodiche contemporaneamente o delle tecniche che non puoi fare col plettro, come ad esempio il rascheado o il tremolo o una tecnica che si chiama alzapua e molte altre tecniche. Ci sono ritmi che non puoi suonare col plettro ma solo con le dita, per esempio la bossa nuova oppure la chacarera argentina o il joroppo venezuelano o la rumba flamenca Ciao, sono Simone More Negli ultimi dieci anni ho girato il mondo per imparare, insegnare e suonare chitarra fingerstyle Insegno tutti gli stili della chitarra fingerstyle a principianti, intermedi e avanzati Iscriviti subito al mio canale se vuoi imparare la chitarra con me e se vuoi scoprire i miei corsi, clicca il link in descrizione Quindi, a parte questa netta maggioranza di stili fingerstyle su quelli del plettro Abbiamo le tecniche Sono infinite Sul plettro non voglio dire che ci sia solo la pennata in giù e la pennata in su C'è qualcos'altro Ma non potrà mai raggiungere la capacità espressiva e polifonica che puoi avere con le dita Polifonica vuol dire che suoni più voci contemporaneamente Altro linguaggio che con le dita puoi fare e con il plettro praticamente no è il linguaggio contrapuntistico Il contrapunto è la sovrapposizione di più linee melodiche Che sono indipendenti tra di loro ma relazionate una con l'altra secondo certe regole Che dipendono da lo stile, l'epoca e il linguaggio che si usa Comunque, a parte queste cose complicate e incomprensibili Voglio mostrarti come convertire molte cose che pensi si possono fare solo col plettro Sulla chitarra fingerstyle con le dita Perché si può fare tutto e di più Partiamo da tre categorie principali che io vedo nel suonare la chitarra Praticamente abbiamo lo strumming Cioè l'accompagnamento, le pennate Quando accompagni le canzoni tipico Poi abbiamo l'arpeggio Che ha le sue diramazioni Poi abbiamo lo stile solista Quindi melodico Una nota alla volta sostanzialmente Queste sono le tre macro aree Ok? Allora, comunemente si pensa col plettro Puoi accompagnare qualsiasi canzone Con le dita è più difficile Perché? Perché nessuno ti ha mai spiegato che tecnica usare di preciso Allora, ti parlo della mia esperienza Io sono partito da piccolo con il plettro Come tutti Poi ho iniziato qualcosina di fingerstyle acustico Un po' tipo folk o blues Poi invece quando ho fatto l'intero percorso classico al conservatorio Lì ho dovuto suonare solo con le dita Quindi ho portato a un livello alto la tecnica fingerstyle Non ho mai dimenticato il plettro Cioè posso ancora usarlo Sono praticamente inesistenti I casi in cui devo usare per forza il plettro Qualcosina Forse magari di elettrico O di molto virtuoso Qualche produzione specifica Altrimenti uso sempre le dita Con qualsiasi tipo di strumento In tutti i viaggi che ho fatto E i paesi dove ho vissuto Dai più vicini ai più lontani Ho sempre approfondito la tecnica fingerstyle Perché nella maggior parte dei posti La musica tradizionale è fatta con le dita Secondo me un motivo semplice È che è più semplice suonare una chitarra subito La predi e la suoni Anziché dover usare oggettini vari Plettri, slide, unghie finte eccetera Quindi dall'India dove si suona la chitarra slide Quella si fa con delle specie di plettrini In realtà però è fingerstyle Il flamenco La musica, tutta la musica classica La musica medio orientale Quando è fatta per chitarra Io l'ho vista fatta con le dita In Indonesia In Sud America In America Latina Centrale In Asia Centrale Ma anche in Cina Io, guarda Ho visto veramente la maggior parte delle persone Fare cose tradizionali E quindi dove potevo imparare qualcosa di nuovo Con le dita Partiamo dalla tecnica dello strumming Dell'accompagnamento C'è una tecnica sola Che è quella standard Per farla con le dita Le altre le ho desunte io Dalle varie tradizioni Dei paesi in cui ho vissuto Però principalmente Possiamo dividere in questo modo Puoi usare solo il pollice Se vuoi un suono abbastanza soft Molto leggero Devo dire Non riesci a usare questa Secondo me Quando suoni dei pezzi Con delle altre persone In pubblico Ma anche quando vuoi suonare tu Più forte Perché il pollice cos'ha? Si tende a usare la parte morbida Del tuo pastrello E per la pennata in giù Prendiamo ad esempio un sol maggiore Nessun problema Lo appoggi e lo trascini Per la pennata in su A volte è un po' più complicato Non sai come mettere l'angolo del dito Così O troppo piatto Non c'è una vera e propria scuola O tecnica Su questo Su questo modo di suonare col pollice Però puoi provarci Cioè Cerca la tua angolazione Che preferisci Se più parallela Più perpendicolare La chitarra E avrai un suono Comunque molto 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 soft Molto leggero Molto basso di volume Anche La cosa bella del suonare Con il pollice È che riesci bene a fare Basso e accordo Ad esempio Quindi Se vuoi farlo Puoi usarla tipo plettro Però hai più potenza E anche più velocità Perché puoi fare Poi veniamo a un'altra tecnica È una tecnica che io chiamo Del plettro invisibile È come prendere un plettro Quindi unisci indice e pollice insieme E suoni In giù Prendiamo un Mi maggiore In giù Toccando il dorso Dell'indice E in su Il dorso Dell'unghia Del pollice Quindi avrai in giù E in su Non hai nessun plettro in mano Ma è come se lo stessi impugnando Con questo puoi fare Ad esempio Dei ritmi Non so Ad esempio tipo Swing Manouche Quindi jazz francese O qualsiasi ritmo realmente Io personalmente non amo questa tecnica Perché è un po' un ibrido Non è né bianco né nero È un po' limitata Quella che preferisco È la tecnica Con la mano aperta Che è quella che si usa Nel flamenco E nella musica latina Io l'ho imparata molto bene Vivendo in Andalusia Studiando flamenco E mi ha aperto le porte A qualsiasi ritmo Questa tecnica è semplicemente In giù Anzi prendiamo un altro accordo Mi In giù Con tutta la mano E in su Col pollice Basta I movimenti sono due Questa tecnica Ti permette di fare Qualsiasi ritmo E di arrivare a qualsiasi velocità E di integrarla Con le altre tecniche Per esempio Se noi vogliamo unire Un raschiato A un ritmo Come fossero dei fil di batteria Per un ritmo di batteria Possiamo farlo Semplicemente Guarda Perché riesco a inserirlo Senza spostare la mano Altra cosa I colpi percussivi Sulla chitarra Con questa tecnica Riesci a inserirli Perfettamente Guarda ad esempio Anzi Cambiamo tonalità Vedi come si inseriscono Senza dover Spostare L'impostazione Del braccio Soprattutto Altra categoria Di tecniche Che possiamo fare Con la chitarra E quella degli arpeggi Ora Vedo sbagliato spesso Questa divisione netta Tra accordo Arpeggio E melodia Realmente È sempre la stessa cosa Sono delle notte suonate Solo che Se le suoniamo tutte insieme È un accordo Quindi abbiamo questo Se le suoniamo una alla volta È un arpeggio Se si suonano invece Una alla volta In altri ordini E magari con altre note Tra l'accordo È una melodia Quindi Queste sono le stesse note Ne ho aggiunta una o due diverse Però in un altro ordine Quindi Non è così netta La differenza Tra queste tre cose Generalmente La musica Io insegno sempre A guardarla In un modo più olistico Cioè Le tecniche Gli argomenti Le aree Diverse Sono la stessa cosa È sempre la stessa cosa Solo che Si sceglie di guardarla Con un filtro Che isola Un certo aspetto Di quella cosa Quindi Torniamo alla tecnica Dell'arpeggio L'arpeggio È una materia Che realmente È un po' complessa Perché confonde Perché confonde Perché l'arpeggio è Le note di un accordo Suonate una alla volta Ma questo vuol dire Tutto e niente Cioè Per uno che suona Uno strumento diverso Come ad esempio Il pianoforte O Un flauto Un clarinetto Un'arpa Un altro strumento L'arpeggio è Apprendiamo ad esempio L'arpeggio di Che ne so Mi maggiore Abbiamo mi Sol diesi Si Poi possiamo farlo Ripetuto Possiamo fare mi Mi ottava sopra Sol diesi Si Le note sono tre Mi Sol diesi Si Le puoi fare in diversi ordini Uno che suona Uno strumento che non è la chitarra Le prende e le suona La chitarra può fare gli arpeggi In due modi Un modo è verticale L'altro è orizzontale E questo ci fa sembrare Che siano due cose diverse Il modo verticale Diciamo È questo Una nota per corda Ok Quindi Non abbiamo una nota per corda Ma l'effetto è un arpeggio Con le dita riesce a raggiungere Una velocità Che non puoi raggiungere Col plettro Sui arpeggi Ad esempio Una cosa del genere Col plettro Non so chi riesce a farla O anche questa Non so Torniamo all'arpeggio L'arpeggio verticale Quindi Hai una nota per corda L'arpeggio orizzontale Per esempio È così Qua stiamo suonando Orizzontalmente Però se tu ci fai caso Senti questo ad esempio Se io faccio È molto diversa la tecnica Qua devi veramente Muoverti lungo il manico Mentre qua stai fermo Con la destra In un caso cambi corda Nell'altro stai sulla stessa Altro arpeggio che si fa È quello usato nei soli Quello che poi diventa Sull'elettrica Va fatto con la tecnica Sweep picking O se no Comunque va fatto col plettro O con le dita Ma è verticale Quindi Quindi è un casino Ma con le dita Riesci a gestire Tutti gli arpeggi Tutte le tecniche A qualsiasi velocità Col plettro Sei molto Molto limitato Per terminare La terza macro area Di tecniche È quella della melodia Del solista Quindi una nota per volta Qua è come un'idea Che col plettro Si vada più veloce Che con le dita E non è assolutamente vero Si va veloce Quanto con le dita Cioè non c'è differenza Anzi Uno come Paco di Lucia Si ascolti il disco Friday Night In San Francisco Dove c'è Paco Con Aldi Meola E John McLaughlin Che suonano Sinceramente Non direi che Paco Va più lento degli altri Ci sono tre tecniche Che puoi fare Con lo stile melodico Fingerstyle La prima è Col tocco libero Quindi suonando E scappando via Dalla corda Cioè non fermandoti lì Quindi suoni È la stessa dell'arpeggio Però portata sulle melodie Quindi ad esempio Poi abbiamo una tecnica Che invece È del tocco appoggiato Quella usata nella classica E la tecnica Del piccado Che è la tecnica Dell'appoggiato classico Ma nel flamenco Dove abbiamo Un'impostazione della mano Diversa Che dà un suono Più percussivo Quindi avrai cose del genere Questa tecnica Ti permette di andare Molto veloce E di suonare Fortissimo di volume Cosa che col plettro Non riesce a fare Perché in velocità Col plettro Si perde volume Quindi queste sono Le tre macro aree Delle tecniche Della chitarra Poi ci sono Tutte le parti Di colpi percussivi Che vabbè Quello è creativo Ma è comunque Standardizzato Nel mondo Della chitarra flamenca E anche classica Dove voglio arrivare Con questo video Voglio arrivare A questa cosa A farti capire Che suonare la chitarra Con le dita Fingerstine Ti permette Di suonare Un sacco Di stili Un sacco Di tecniche Puoi avere Più possibilità Espressive E andare Sia più veloce Che suonare Più forte Quindi Tutti i falsi miti Che ci sono Le strane credenze Sul suonare La chitarra Col plettro Sono un po' Passate Secondo me Sono un po' Di un'altra epoca In cui Certo c'era Il chitarrista Elettrico Sul palco Che spaccava tutto Però Sono cambiati i tempi Il mondo è grande Ormai c'è internet Viaggiamo I voli low cost Possiamo conoscerci Una con l'altra Le varie culture E come facciamo A far finta Che non esistano Tutti questi stili Queste tecniche Nel mondo E a non integrarle Nel nostro stile Perché tu Non è che devi diventare Un finto cinese Un finto spagnolo Un finto colombiano Per suonare La loro musica Continui a essere Te stesso Te stessa La tua identità Però Se tu impari Se tu arricchisci Il tuo vocabolario Chitarristico Di tecniche Puoi scoprire anche meglio Chi sei E qual è il tuo stile Perché magari Una data cosa Che la tua sensibilità Ti porta a fare Non riuscirei mai A raggiungerla Con Solo suonando Con il plettro O solo con quelle Quattro tecniche Che sai Questo è il motivo Per cui è fondamentale Imparare Tutto quello che c'è In questo mondo E tutto quello che abbiamo documentato Nella storia Quindi come sempre Il consiglio è Diventa forte col fingerstyle Impara a suonare con le dita E parallelamente Impari anche quelle due o tre cose Del plettro Che ti servono Per fare Quegli stili O quelle cose Che ti richiederanno Per forza il plettro Se senti il bisogno Di approfondire Di capire Di migliorare La tua tecnica di chitarra Soprattutto fingerstyle Ma anche tutti gli altri linguaggi Iscriviti al mio canale Clicca il link in descrizione Per scoprire i miei corsi E seguimi Anche sui altri social Metto contenuti Di tutti i tipi E soprattutto su Instagram Metto a volte Dei grafici Degli spartiti O dei video più specifici Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.